Buonasera a tutti ragazzi e ragazze ed eccomi ritornata in questo nuovo video. Ebbene, siamo quasi giunti al termine della edizione un po' scombussolata quest'anno di Uomini e Donne. Infatti il 9 giugno tutti in vacanza e vedremo che cosa accadrà per quanto riguarda la coppia più amata in questo momento, Gemma e Sirius. Ebbene, dopo l'acquisura di Uomini e Donne si inizia già a intravedere qualche spiraglio per la possibile partecipazione di Tentation Island che verrà come tutti gli anni molto probabilmente a metà giugno. Ma già si mormora però di qualche vocina che parla di qualche personaggio che potrà prendere parte invece a Tentation Island VIP che andrà in onda verso fine agosto. E una di queste coppie che si sta mormorando sul web in queste ultime ore sono proprio loro Pietro delle Piane e Antonella Elia, la coppia scoppiata, riappacificata nella casa del grande fratello VIP. Pare abbiano deciso proprio entrambi di partecipare al programma di Maria De Filippi e mettere alla prova i loro sentimenti con un'unica differenza rispetto al grande fratello perché la coppia verrà separata entrambi i lati e sia Antonella riuscirà a vedere ciò che fa Pietro e viceversa. Quindi sono pronta. La coppia quindi pare pronta a testare il loro amore. E voi ragazzi che cosa ne pensate di questa papabile coppia? Scrivetemelo nei commenti.